...della contessa, lo voglio. Senti, bello, qui non si fa niente né per cortesia né per forza. E se lo vuoi devi prendertelo. Eh no, sarai proprio tu, Big John, a portarmi dono a casa. Emilio? L'americano se ne va, buttalo fuori, ma sta attento che non cade in acqua, altrimenti inquina tutto. Ehi, la sputafuoco è tua. L'americano? Anche i confetti sono tuoi. Capo, devo fare qualcosa. No, no. Andiamo.